musica 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 ragazzi abbiamo il giochi ha scelto kyle poi abbiamo ulisse cosa fai veloce vado a di carrying bot poi ci sono io che ho preso sion cosa brutto e io ho preso invece e andrò in bot a trollare insieme a lui facciamo i due ranetti malefici in bot a trollare vai lo siamo andiamo pazzo ma dove va giù mid con kyle eccoci qua siamo pronti qua hanno cambiato la scritta ragazzi belle abbiamo fatto la pace di loro ragazzi quindi siamo estremamente OP che scritta ha cambiato? la scritta welcome to the summer rift welcome to the summer rift vai via sol poi andiamo giù allora andiamo subito a parlare intanto ragazzi ricordiamo che i figli per trovare il link di iscrizione e sanno realmente giocare a league of legend tra nesi che ha fatto quel coso lu che skin è? che hai? è bellissimo sei tutto pazzo no e via lui aiuta ricordiamo league of legend all'inizio è questione di farming abbastanza moscio per chi non conosce il gioco e si sta annoiando può andare direttamente avanti a guardare i fight le lotte più totali complete come si fanno a ridere a ballare? contro 3 guarda figata la scritta guarda 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 io che faccio guarda lui guarda che bello guarda guarda uh boom 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 vabbè cominciamo? io non vedo non vedo il tempo quindi io tanto non giocare la lol perché non mi ricordo più niente io sono tenero mi dici il timing soul? eh sì mi dici il timing ok ok si chat non sono i cheat basta 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 andiamoci in questo caso ragazzi per i meno esperti abbiamo dato una mano a soul il nostro jungle appropriarsi del blu iniziale il blu da eh cooldown redaction no giusto? cooldown redaction e mana 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 potenziato recupero mi dici me lo ricordo ancora c'è ma ragazzi io sono tu sei il support ora io devo farmare più ma come? io sono il support ma farmiamo in due o? chi farmà farmà chi farmà farmà vabbè ok è così ragazzi questo è il nostro consiglio del botto perché non si gioca in questo modo eh è giusto noi ce l'ho detto subito mettetevi così in chiaro arriveranno i prodi del gioco a dire esatto non sapete giocare viva ti schifo ma la vinciamo ma la vinciamo ci sta ricordo che io ho vinto il campionato della ESL da quando la ESL fa anche eh esatti una volta il facevo una volta io ho fatto capire chi comanda ricordiamo che che Kennen è un personaggio abbastanza variabile ovvero si può usare anche AD Carry solo che ha un paio di problemi eh all'inizio perché un paio di problemi è basta le sue skin le sue skill sono tutte AP quindi io essendo per quanto riguarda il mio PG è inutile questo maschietto piccolino un anetto che lancia le palle è più un mid lui gioca al mid mid top un ability power vabbè se si entra a mid Ulisse sta morendo come vedete un pirla e che vuoi da me se com'è io non ho la tua bravo bravo mi fa paura Ulisse mi dammi la mano è lui è sai un po' difficile così ma mi fa paura quest'anni raga aggressivo vieni qui ah è lui aggressivo l'arrivo aggressivo vieni abbracciami morde Ulisse è lo Zalu buonissimo schifo ragazzi eh siamo stati abbastanza arati dal fatto che c'erano altre motto va bene e dal fatto che guarda sono un quante rimaste dal fatto che il nostro inglese eh 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 ho bisogno livello 6 per poter andare avanti Ulisse se arrivo posso ucciderli eh lui non penso eh come se è un pazzo il teleport il teleport ah e beh potevi arrivarci allora eh ormai i mici ormai si sono andati c'era beh va io non vorrei che c'è i volumi alti ragazzi eh infatti io sono sempre gli ad abbassarli perché avevo paura sai che non so se il master volume alto come c'è che abbassarli ora l'abbasso ok l'abbassato sono abitato a giocare gli alti perché anche su league of legend come su cs può sembrare strano ma dei suoni possono aiutarti eh l'abbassati dove sto andando ma a me quest'anni mi sta facendo seriamente paura a me sta che ti ne ha rotto le palle esingar poi è vedi tu è un ottimo range lui quel problema eh credo che sia il pg con range più lungo no? uno dei più lunghi che sensi? il secondo oh so uscivano prima aspetta chi erano era jinx no jinx c'era un po' più alto eh no jinx c'è coltissimo eh ne hai visto la sua c'è uno non hai visto allora no sono quattro poi io ho sbagliato funne del trinket ma guardami diamo informazioni ai figli chi è il primo sol ma non ricordo in che senso che c'è il range ehm il primo il range e tristan al 18 ah tristan ah beh è vero tristan c'è la c'è la c'è la c'è la c'è la c'è eh sì anche ciao a sto punto allora diciamo senza skill dico io senza skill senza skill e tristana allora senza skill e tristana anche perfetto e passiva sono a kitlin senza nulla no parliamo di attacco base il ruolo di spell attento che ti sta un po' menando se no che asci sto mangiando le poze lo dove l'ha buttato qualcosa lo sono senza mano eh guarda ti hai buttato la pressanta io ne sono andato sennò non raggiungevo mai 6 ah vabbè hai fatto bene hai fatto da tanto ma sono pure senza mano non posso fare un po' lui buttiamo giù ancora no no quale è solo con noi andiamo è malvito è grande e non è che posso fare l'intelligenza quanto un pomodoro c'ho io oh lei c'ho la final bella ricorso siamo per gli neo connessi appena connessi che stiamo vabbè vabbè noi siamo in live non siamo in live stiamo concentratissimo stiamo trollando ma non è manco un troppo sinceramente cioè nel senso che da nuova patch o comunque dal fatto che è uscito braum quindi un po' di patch fa quindi parliamone è un bel po' si può usare tantissimo il champion che sto usando io perchè braum casta bene con la sua passiva con la passiva del mio amichetto è il suo amichetto dove vedi braum però ma ci sei andato c'è insieme che il mio amichetto braum non c'è però fa nulla vabbè li sto spiegando anche per sposare l'ho visto usare il rank ed eh ragazzi funziona vabbè buono ragazzi ora siamo no no siamo in una zona fa lui vai via via lui il kajix è giù eh che palle eccolo eccolo vabbè l'ho visto hai visto vero eh sì sì non c'è bisogno che ti aggiungo uno shuriken però era che per beccarlo era che fa rust and shuriken allora vabbè non funziona quello non mischiamo una bella world una bella world qui ricordiamo world serve per vedere un brush che è dove in genere si nascondono i champion che vogliono farci le imboscate lol tutorial ragazzi lol tutorial everywhere ricordiamo che ricordiamo che signor Ulisse sta giocando con la visuale standard fissa perché sono abituato a giocare con la fissa mamma mia quindi non rompete si mamma mia ecco lui è uno dei primi che insulterà luto non la devi utilizzare invece luto cosa fai io quella mobile ma scherzi ma io ti ho fissato quella fissa quella fissa impazzisci no perchè riesco a vedere anche la mappa infatti io impazzisco come vedi gli avversari con quella fissa guardo sulla mappa allora personalmente mi da fastidio giocare dall'alto perchè c'è tutto il menu sotto ed effettivamente ti nasconde infatti ogni tanto la sgancio per vedere un po' la sgancio solamente quando mi serve che ne so vedere un po' come stanno nelle altre lane il resto non è che mi serve tanto c'ho 33 creep contro i c'è 36 quindi diciamo che Kat non sa farmare io pure con Enni sono messa praticamente alla pari quello che lei c'ha a mano io il bello di Enni lui appena abbiamo nato della ulti possiamo tentare di fare un bel bel accoppiato io io li blocco e tu li butti la ulti addosso un paio di mignone c'è la ultima eh Ulisse parliamo neanche tu ne hai 34 Ulisse parliamo eh beh dai no 29 sono già xander fa il figo perchè c'è una 42 visto che non sa farmare l'armone è una buona lui non per dire lui attento aspetta no non c'è l'ha fatto l'ho mangiato ok lui mi sembra word qua mi sembra word qua si si va bene anche quello no no grava qui mordicchio ora ulti ok eh lui vai eh raga manca mordicchio 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 vai lui vai lui vai lui lui torna indietro torna indietro lui mi sto a morire io vai 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 che ti ho salvato ti ho salvato ti ho salvato ma volete insomma io l'ho avanti a te lascia stare questa è la classica figlia di puttana esatto io ce l'ho messo dietro l'inizio per non mi strimare va bene io morivo lì se mi sa lo sai no no morivi morivi quanti ha capito avevi? 300? io devo recollare che non vedo più any se ne vedi meno non ce la faccio più se la prendo il calice ah sta recollando eh si vai di calice ci sarà un po' di mano su 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 top su top lui vai col teleport se ne vedi prendi 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 guarda esiger che fa il figo vabbè infatti un po' noi in box ci stiamo cavando abbastanza bene nel senso che stiamo farmando e ce la stiamo cavicchiando ok arrivo sotto faccio pure ah non c'è mano eh io non c'ho aspetta 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 andiamo a vedere se c'è il loro blu andiamo a vedere se c'è il loro blu ah io devo vedere un attenzino ok loro non sa tutto il mano possibile allora prendi la cappella chiappella eh lui non levo niente al momento mi serve farmi in critico farmi in critico any 39 e 38 non costato a lasciarmi come faccio con tristana ovvero lasciare di cattiveria intanto la situazione di due morti e due kille di xander da parte nostra e una parte anche di porca trota eh io vado a piazzare un paio di gordo su 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 no per l'ultimo un altro dettaglio andiamo di qua se lo vediamo quando arriva andiamo a vedere su signor lucca un super gancone fate un super gancone in 4 no c'è l'ultimo eh quando volete fate l'avanzo ecco ci vedono ci vedono ci vedono ci vedono ci vedono ci vedono morto grande l'uomo eh lui lo so tu fai gli affidano io tristezza eh noi siamo qua eh lo so però ero ma sono tutti i medi io sono in botta vai lu eh si è sbagliato il nome dovuta indietro no sono più umana vedi quanto danno faccia adesso 191 col critico perfetto intanto vi faccio un po' di critico vi faccio vedere cosa faccio sono più umana no mi scudo il telefono eh vabbè non rispondere c'è chi se ne frega pronto in live bella occhio tu puoi giocare anche con un telefono mi sono anche curata con la nel frattempo che ti facciamo eh io sto arricchendo il mano col blu ok signor Luke ne fa tempo a K quindi spiega un po' di cose mi cura che sto lasciando sto lasciando nel mentre per potermi fare lo static cos'è lo static? è un'arma potentissima per farsi un bel po' di danni infatti per recuperare anche un bel po' di soldi infatti vedete l'arma che mi è il primo arma il primo arma si che ho preso quando hai chiesto no no che c'entro io hai schifo solo a precindere la cattiveria boom me esploso oxander barbagianni in arrivo ah ricordiamo io il barbagianni in arrivo la cosa importante è che Luke usa mana io uso energy intanto lo si iniziando energy drink compra anche tu l'energy drink hai un po' in più c'è mordicchio vai 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 trago, 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 trago fallo, vai vai Lu, vai Lu, butta giù Torre, butta giù Sorre venivo pure, solamente che mi manca uno ah Lu, betti qua, betti qua, vai ok, perfetto Lu, Lu, se vuoi lo betchiamo, lo ammazziamo, lui non può farci nulla devo tanto non attaccarlo sotto Torre oh, il blu eh, attento non c'è, no, attenzione vai Lu, per un secondo bella Lu, vai Lu, vai Lu, che lo butti vai Lu, bam Lu, gg ggvp, è wort è wort, è wort cosa significa wort, ragazzi, significa buono significa che hanno fatto due kill, ne abbiamo fatto due kill quindi va bene, in realtà significa inutile no, wort significa com'era, ad igualto buono, mi ricordo comunque, no, che schifo che ho fatto, vuol dire, me l'ho aspettato come la tua torre Xander ti hanno sfondato il bot, il top eh, Xander sta facendo il giro del mondo hai saputo di riprendere blu però, più cacera signor Luke finisca il suo calice che poi siamo pronti che devo fare non possiamo, non possiamo perdere la torre in bot devo andare a prendere quella dai, c'è anche Sonia chi è Sonia adesso? eh, Sonia quella che è la Sonia SS, ah no eh, non so dove si ha anni ok, li ho buttati indietro, li ho buttati vedi, la stai, andiamo a scuola noi eh, lui non è tanto semplice ma la stai firearm buttati e volerci a te schwierig sky Erik sai dai 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 io dovevo cambiare il trinket non l'ho cambiato guarda, 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 cazani tanto amore della casa okay Calling líder Live corre corrigi corrigi come se non ci fosse un domani penso c'è andata verso il drake io me lo so fatto bravo su one man one dragon eccomi mordicchio stamilandolo martiglia e lui me lo dicevi prima e non mi vedi? vabbè sono andati tutti e due lu tori indietro l'abbiamo visto arrivo giù arrivo giù eccomi qui via lu mi son beccato tutti i danni di sto mondo lu facciamoci la terra mid andiamo giù oh mio dio non giocate mai con lu chi va a ucciderlo? pure di salvarli no la torre tutti sono voluto qualcosa non ce la fa non ce la fa ce la fai più precedente a poi ci siamo vai corre aspetta che ti da vai buttateli giù da ragazzi pian piano ti fa male ti fa male ti fa male ti fa male si ma c'hanno la oddio sander quanto fa male no 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 sai è morto qui in famisa forse sono vivo è morta no per culo dice kp rimasta io scappa per me non arriva fino dì kp di o mordicchio che si fa il mid ho visto mordicchio mordugg mordugg dovrebbe essere mordugg se mordugg guarda la no 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 rimasta giro vai ma vanno a decenni ragazzi ai buttati che palle ma il uva il bravo lui bravo in piatto tanto lui attenta bambino attenta bambino a bambino al coso di bambino vai bambini su di colpa ex a sì ci sono i bambini anni cosa è grande sapeva però a bambina ma chiudere che ci dici di tre secondi 2 1 ora c'è il dvd però il dcd beh ragazzi tutte le kill le sta facendo praticamente ex a toliti perché occhio il mid che non li vedo gg sa via già punto fugite voi due sciocchi ed cilpe di prima grande ragazzi il mid è morto perché io lì se stiamo trollando esatto non è che si fa della torre o è normale e devono andare a cambiare il trinque assolutamente ma muoio contro soli servizi dietro fa nulla al sacro fa me lo muoio l'ultima vai vai lui grazie lui tvb tvb k scappa lui scappa come se ci fosse domani lo ricorda noi siamo degli insetti che siete voi due no 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 se ne andato allora io mi devo fare questo grandissimo lo dovete scappare ho fatto la vita purissima ragazzi sai come l'ho fatto due volte due volte di fila io almeno mi sembrava il minimo annie mid ci facciamo anni e la verità migliore che sono ci sono non sono indietro mai ho preso luca 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 si è questo chi lo fa e quanta gente aiuto arriva 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 morto luciano esplode dovevo luciano metà luciano appunto ok spero non non mi ha caso questi mi arrivano addosso tolano indietro lo gioco tranquillo va di brutto anche senza formare ancora stai parlando mamma aspetta ragazzi c'è qualcosa di strano perchè gli ho dato extra solo 300 oro non era 500 prima eccomi si era quanti kill hai fatto scusa 7 eh beh allora si in effetti è cambiato hanno diminuito significa meno gold quando fai eh si la voletta sa cosa ha dei meno gold più kistik una volta dava mille eh no no già ci vuoi c'è domanda 300 ci facciamo parliamo vai 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 su vai su spalpano io io ho dovuto stagione non sa che sono io no sono il mio guarda qua e non debolissimo che vuoi grazie luca eh tu che te lo fai scusa ah che me ne faccio io eh ci diciamo andiamo 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 eh si è dvd abbiamo fra 4 secondi il drago oh i mid 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 si appart enough ecco il drago oh raga tutti i mid sono arrivo l'ho visto eh l'ho visto, l'ho visto si se ragazzi io non sono così veloce quanto pensate eh però aspetta siamo ragazzi la mia torre in linea su non la vede Eh, quella mid, infatti, ma c'era uno che ha avanzato per caso Vabbè Non lo so, è avanzato nel giugorifero L'avrà girato per la giungla Dove, 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 dove Eh, non lo so, forse sopra Pusciamo i mid, pusciamo i mid, pusciamo i mid Eh, l'ho visto quanto faccio male Eh, un wardatore non c'è questa ribida Eh, che dirà il mio support? Guarda qua Bello! Quella non è una guarda Sì, lo so, volevo vedere che cavolo faceva, devo andarla a cambiare Ah, lo sai aver diso chi li ha No, perché ho sbagliato a prendere il trinket Al posto di quello giorno ho preso questo Volevo vedere cosa faccio L'u, è abbastanza inutilizzato, in effetti Eh? Facciamo? Eh, non lo so, l'u Dovremmo buttare giù il mid, l'u Se vuoi, se vuoi, io gli presci addosso e muoio Dai Vai Carico, eh, via, preso Vai ragazzi, ragazzi, vai Dai, uccidettelo Ah, merda, ho bancato la ulti, ragazzi Buttate giù, buttate giù con la cosa Sto voltano indietro Ah Eh, aiuto Sai, non è di quello che deve morire? Sì, mi sono buttato Soprì su Guarda che nessuno prende te che sanno che Fai un male, è assurdo Io sto vedendo È possibile che non è morto nessuno? Eh, io sto mi stavo buttando Con la ultima Sono morto Sono morto Non è worth per niente 4 a 1 Oh, il trinchete, il trinchete, il trinchete Sto stiamo perdendo malamente No, no, tranquillo, tu, tranquillo, non preoccuparti Oddio, ci stanno abbondando il mid Eh, fa nulla Oh, il reddito Mi date più ora Sì Ti manca usare più ora Ti manca usare più ora, eh Fai lupo, bravo, ciao Vabbè, prendi quella 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 Eh, non ci arrivo Mamma mia Eh, mi fa il culo Se mi prendi la Vabbè, c'è Vabbè Ehm, nì Pensiamo a un'attretta A buttagliela giù Così recuperiamo anche soldi Tanto a quanto pare Scappano Io, ragazzi Devo farmi la Boss Però Devo aspettare un po' Ho sentito il recollo Ho fatto finta Dai, ragazzi Ho preso Fulte cazzo Chiuso Madò Che culo, ragazzi Vai, la torretta La torretta, raga La torre mi uccide No Vai, giù, vai, giù Che si può prendere Ancosa qua Oh, oddio Dai, dai Vado in botta Vado in botta A prendere la torre Solo in frattempo Si fa solo Solo drago Così a caso Ci mancava solo L'amulanza L'amulanza, lol Vado in tolpe Ehm, passava Ehm, passava Ehm, siamo tutti feriti Mi piace da una curata Eh, ti ho anche veloci Grazie Ehm, passava No, è passata solo No, lo torna a migliato Andiamo a migliato Anzi, no, me due Mettimoci qua Mettimoci qua Ehm, ancora il top ci sarebbe Dossa Eh, lui Ne ci facciamo Gli altri no, lui Quale problema? Apertiamo qua Appena passa un po' avanti La becchiamo Fatti vedere da sola Da solo Eh? Vabbè, solo non è un problema Vado? Eh, ci sta Vai Lu Gigi Lu La cattiveria Delle tattiche di Lu No, Lu, Lu C'è Casix Torniamo indietro Casiglia? Sei un portiere Un portiere Sì, sì Un portiere Lascia stare Ma dite che mi vengono a prendere No, Lu Lo fa apposta Una trappola Una trappola Una trappola Come avete fatto voi Cioè Ecco Lu Te l'ho detto Che è una trappola Vai Lu Non è una trappola E non cosa ho fatto apposta Lu, vai vai Oddio Gigi Lu Gigi Lu Grazie per avermi fatto morire Di nuovo Grazie Così molto a caso Bella Lu No, no, prego Lu Non preoccuparti Che mi sono messo in mezzo E ti ho salvato Che cosa abbiamo fatto Assurdo E però Dico Legend ragazzi Che potete fare i troll E alcune volte Vanno anche bene Però manca Trandol Quello è il problema Che battete squalida Dice Sol Sol tranquillo Nessuno t'ha visto lì Guardami la più adesso Lu Vediamo Oh vai vai Che c***o Fai gg Aiuto Lu vai Lu vai Aiutali Andiamo 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 Vai 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 No Sander fa male Arriva arriva Ragazzi arriva Guardate Lui attento Qua la fa male Non ti ha mangiato Lui la ulti Lo vedi quell'altro Eh Facca prenderlo Vai 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 Hai visto quel critico Hai visto quel critico Quanto ho levato Fuga Dobbiamo andare su Super Andando Andando Braccino meccanico Ebraccino meccanico Adesso Exalzer Scappa scappa Andiamo Finiamoci La torre Giò Giò Mi dà una curetta Fa vuole Adesso è un po' nella cacca Grazie Giò Prego Bella quella skin Bella quella skin Guarda quanto faccio di critico 300 Abbiamo anche gli altri creep Perfetto Vai Fattalo Ciao Uli Ciao Ciao GG Luke ha detto il mob killer La spiera a polvero Lo chiamo C'ha 60 critico Esploso tutto Rubato Mi ha fatto amare un cazzo Ulissio Ah ma che Sono il colpo Madonna Lascia stare Guarda Guarda Lascia stare Lascia stare Non ci sono parole Per descriverti Guarda che cosa Guarda che item c'ho Già con questo Lu C'ho Ci guarda Ci guarda perciato di critico Dai Raga Potremmo puntare il botto No Non stanno a fare il baron Io ho visto di di Però non penso Si fanno il baron In questo momento Guarda che c'è 1-3 No guarda lì al baron Ah no guarda Sono lì for Andiamo in mini Andiamo in mini Ragazzi bisogna buttare giù il botto No guarda semplice Che sto messo bene Eh E volissimi Non so Ho paura Potremmo puntare al botto Raga Giò Ok Ma il botto a giocare Eh non lo so Dipende da che botto Mmm Qui in persino Isingarno Eccolo Ecco lì dal dietro Lo sapevo raga Vai vai butta giù Vai giù Giù No Lu Lo sapevo Avevo fatto la tattica Via 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 Fammi saltare Lu Lu un brutto salto Davvero Lu sei morto Mi spiace Stato bello Dai guarda gli feriti Gli ho feriti Gli ho feriti Ma che feriti Sto ancora tutti a capì Ma che cosa stai facendo Guarda Isingarno Te l'ho fatto dai Ragazzi aspettate 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 No Sol tollo indietro Sol 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 corri Come se non ci fosse domani Se morite è persa Se morite è persa No 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 Non posso mai cucurarti Arriva ragazzi Xander io 5 secondi Abbiamo 4 3 Che stai fermo Sol Aspettate 10 secondi in più Non abbiamo problemi Mi vado a fare Anche l'ultima Mi finisco Anche l'ultima Lui c'è anche l'ultima Lui c'è anche l'ultima Lui c'è anche l'ultima Arrivo Tenete lì Non fatevi scappare Eh adesso scapperanno Perché siamo rinati Eccoli stanno scappando Ok Mi rallentano Eh che cavolo Ho preso l'unico Cosa che ne ho Rallentato Dai Dai Lo prendo Lo prendo Forse lo prendo Vai slow motion E niente Slow motion Tu ce la facciamo Dopo qua Guarda sta scienzeato pazzo Che cambi sono netto E il nano malefico Ve in BOT Vabbè in BOT Ve in BOT Diamoro Lui c'èelu Vini come un niottir Ma io faccio la torre La torre La torre è quella pi pre 앉ate Crane Bruntie Reality Vi facciamo Andiamo tutti siedoli Immunico Il Alberto No Vabbia No Tra 20 secondi 25 secondi Dato Va Costa Basta Che Fai Ver Ah Is Ci Anche messo sta cosa ne vado fiera per fai tab in alto abbiamo i tempi del rosso del blu del drago del baro la velocità ok io sono 10 secondi diamo adesso potremmo farci 321 proprio così di prepotenza lui ovvio appena finita la loro spaccalo ottimo eccolo ragazzi di quali 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 qua dovremmo cercare di fargli ora ho guardato il lavoro del mio no 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 ho preso il toppe raga il top il top ho preso quello che va top vado io mi incidono sempre è una cosa assurda vai che ha messo salvato ti vogliono bene ma ho fatto il culo non vado non mi mollino bene mordecai dovete beccar giù lo prendiamo vado a difendere la torre non c'errivo non c'errivo non c'errivo non c'errivo no ragazzino arrivo indietro difendete sta bene dove sta allora bello ciao arrivo a salvare la torre il cane che mi aggola come il cane che mi aggola il cane che mi aggola dili di no dili di no dili che la vita è brutta non mi aggola non ho preso il danno perché andrò 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 non so luca torrenti altro luca luca e luca ma sono da soloco via via andiamo a te in base arrivando io anche 30 minuti di video però amica non uccidiamo tutti e non è facile da minuti stiamo anche tra l'altro insieme a già 20 euro poi ci sono i personaggi trolle tutti quanti tutti quanti vanno per te però ci stiamo comportando bene per essere una partita troll per noi poi è assicurato quando andrò la immaginata non vincere che nm e zig pot si on api top che cosa vuole non abbiamo te anche qual è vero problema scampette abbiamo anche uno non ho cercato io devo 600 di critico 8 ok perchè scusa è il botte sarebbe quello da buttare non abbiamo la torrente più danneggiata è vero tu non sei un tank non ti vedo tank dov'è la tua difesa ap allora sto facendo ok già ho guardato no non sei un tank ancora ragazzi aiuto sto con te lo sto con te sto qui sto qui lo sto pushando sto pushando mi tenere tenetemi la mano tenetemi la mano aspetta che vengono tagliato il problema è che quelli lo vengono in fretta botte facciamo scappare l'antidrappola li antidrappoliamo eh noi andiamo in botte noi andiamo in botte giù massimo massimo mi fai lo scudo e li mazziamo ok ok io la vera cosa che posso fare è giù e farvi un po' di male di base qua è la cosa buona adesso di che è il mio quindi mi devi dare un attimo tempo per poter schillare va bene non ti hanno visto non ti hanno visto prendi 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 vai giù vai giù vai giù vieni 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 qua dove vai dove vai andiamo la torre sotto la torre sotto la torre sotto la torre ragazzi ammettere la vita 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 together together we can win together we can win è il mio quello di flash addosso tra tre perfetto vai inibitore inibitore e dopo questa potremmo pensare di farci bello una torre ragazzi una torre grande dai 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 no 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 mi sono toccato tre mie dai raga l'ho presa altra torre altra torre aiuto aiuto vai che sono salvato perché vabbè andiamocene via andiamocene via 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 a casa ragazzi a casa yuppie yuppie festa estrema guarda che è rita quel pazzo sai che è arrivato fino a quest'ora del video scrivete nei commenti io ci sono esatto se ci siete e se ci siete dite Ulisse è bravo Luke un po' meno però dettagli grazie grazie però chi l'ha beccata quella con il doppio flash e chi ti ha dato lo scudo e la vita veramente lo scudo l'ho dato a Luke mentre io mi sono messo in me io sto facendo un support a Luke quello è il bello capito sono tre volte che mi metto davanti a Luke protegge non è che stai facendo lui invece mi ha lasciato morire oh tutti qua sono arrivato un po' in fetta dove? eh arriva a Jomo farà più veloce della partita non è che sono più veloce di io però dettagli eh come ride? ma senti che ride così è un palso? eh loro sono in bot quindi noi la cosa migliore è andare in mid adesso abbiamo buttato giù una torre quindi siamo avvantaggiati come avanti a giù noi allora? io prenderei il baron se ci avanti se guardiamo bene ci prendiamo il baron ne va a farci il baron ma ragazzi andiamo? eh loro sono in bot quindi volendo si io voglio il tempo che arrivo che baron dobbiamo fare? no lui veramente il baron si fa anche a livello 15 lo so però però aspetta Xander non c'è no la facciamo a troppo solo vieni è veloce veloce ragazzi lo sono tutti lì aspettando che facciamo con Kowli devi smetterla di guardare dove guardo io dai io non sono il tank non posso fare così eh tank che ti frega vai ragazzi 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 eccoli lì facciamoci un loce attento sono buono te lo voglio non stilare bella vai vai Lu vai 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 dai dai ragazzi è un coionno morto morto adesso vatti uno ma comunque non è questo morti sono rimasto da solo? si Lu K è il fantasma di Ulisse aveva fatto il baron però top 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 Lu 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 scusa tutto Lu spara tutto eh vabbè no che culo che culo cioè ci hanno fatto con tutto il baron eh mi se abbiamo perso eh beh stavamo sparando tutti sul baron dai perché noi pensiamo al baron bravo non pensiamo a loro andiamo a pensare anche a loro che mi faccio adesso? ehm siamo un po' andata a cacca sinceramente io andrei di blood però non so bene cosa potrebbe eh speriamo che rispondiamo in tempo ragazzi vai veloce 10 secondi ragazzi dovremmo fare ci buttano giù una torre al massimo esatto io e Ulisse dovremmo essere pari poi a parto un edibitore vai 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 l'edibitore guarda ragazzi guardate il bot nostro oh guarda guarda la torre si fanno la torre si fanno ragazzi si fanno ragazzi si fanno veloce raga difendete difendete 5 secondi ragazzi vai guardi Mordekaiser via Mordekaiser quello che devo fare di più ci sono ci sono vai Lu vai Lu vai Lu backdoor backdoor vai Lu guardatevi guardatevi Lu Lu è più veloce Lu guardatevi 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 vai Lu è Lu vai Lu più veloce Lu non è minion ma che cazzo vai Lu muoviti aiuto a posto adesso variati la torre la torre va ragazzi ragazzi 20 secondi stai facendo un macello vai 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 è vinta è vinta è vinta l'edibitore si sta rigentando si sta rigentando ragazzi 4 secondi poi c'è Mordekaiser ragazzi tutti i Mordekaiser buttatelo giù non posso curarvi mi cura io tu di cui da solo vieni qua mi mi è grande ho mutato ho mutato è matto che è successo ma che cazzo ho mutato sto morenda sto morenda sono morto no no è diventata una merenda è laggata mi ha dato una laggata pazzesca eh ragazzi devo tornare giù devo tornare indietro per forza andiamoci red e blu loro ma c'è red e blu ragazzi il top il top il top ce l'ho da io ce l'ho da io siamo un po' messi equalmente è solo mi sembra a me vabbè non possiamo perdere solo ma c'è una merda ti odio entrambe le squadre chi muore è persa sì l'ultimo team fight lui sai che ti dico eh vabbè non possiamo farci nulla devono forza aspettare in base ai nostri mi ha rubato il blu ragazzi è lasciata migliore il re del nostro passerebbe che uno che fosse in base voglio comprare questo mi da 300 tanto risoluto vai vai ok torniamo ok prende il blu prende il blu ho prendi tu ma no no vai di più no no io prendi il blu però arrivo ragazzi base nostra base nostra dai super minion arrivo arrivo aiuto arriva anche loro da raga Sol in base Dai 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 Vai librido is the win Librido ce la fa Eh no ma non ho già visto cavolo Eh soltono indietro Vabbè fatti l'inibito se riesce No no attacca direttamente quello No 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 So metti una ward Arriva Ludoco Buono 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 Non la vedo Lului 128 secondi raga dove vado Su 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 Top il top il top Difendiamoci finchè non ci rinascono gli inivitori almeno Infatti aspettiamo che ci arrivano in base poi l'uso delle porte e da solo te la fa No ragazzi 100 secondi E poi non ho danno fisico da buttare Fanno la fanno la fanno la Non preoccuparti non preoccuparti Stiamo in base qua faccio un po' di creep Tanto abbiamo bisogno di fare ancora altre cose Io mi so preso una cosa che non dovrei prendere Se io riusci siano a dubbere l'ipido l'ho butto giù Perché faccio male emily Eh anch'io faccio male come emily Ok il top l'ho ripusciato un minimo Ehm Dove sono loro? Eh eh Attenti al bar Potrebbero prenderlo dopo No raga più che altro attenti se non ci rispondono in giù Sono i miei 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 Ehm Joe push on top vieni con me Giusto due secondi poi torniamo indietro Ci deve essere veloce quindi Anche perché ci sono i super minion e push hanno che una meraviglia quelli Bella fuori uno Ah ce li hanno dissutti contemporaneamente Quindi in teoria E' infatti Perfetto ok ottimo Giù Lu Ok Lu Lu torna No no si salva si salva si salva No 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 Lu brutta scelta No è sbagliato il salto E' arrivato a te Andami dietro andami dietro Vabbè ti ho usato la ulti addosso Lu No Sì sì gliel'ho fatta Perfetto ok nessun problema Ma qualcuno che riesce a pushare il bot Raga Mi ha fatto la ulti Ma se non squisci io A lui non interessa questo Eh appunto Non ti fa danno Appunto esatto A lui interessa che ti fa la ulti Ti fane il fantasma A noi interessa che Lui prenda il tuo fantasma Tanto dopo hanno un po' Ok io faccio come ultimamente Me la zonia mi serve Così almeno posso farmi la ulti addosso a loro Senza problemi Sì no infatti Eh tanto più o meno Lui ci sta però Un bel po' di apim Raga io ho 8 secondi e posso All teleport Eh è quello il problema È un po' difficile Lu Doveva fare solo Doveva arrivare in fondo e fare la Eh stai attento Eh e togliergli anche un po' di vita All'inibitor All'nexus Nexus quanto ha recuperato Fa vedere Il problema è che adesso si stanno Regenerando gli inibitori All'nexus ha ripreso tutto Ha ripreso Sono mid raga sono mid Allora un team fight raga per forza È l'ultimo team fight Chi vince vince 40 minuti vai andiamo Lu in casa Aspetta 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 f quests Potete vero subito silu lancia la subito perché non ce la fa il gruppo si riesce a prendere tutti i bambini a lui è inizio faccio farmi la zona di un problema è chi va di mezzo mi ammazzano prima lo sanno è un il alice bene non va bene di farla triniti e lo so prox ha stato come costretto a farmi la lì c20 adesso più utile per me dove cavolo solo avanti avanti mi darebbe più vociata così è vero però darebbe tutto di più lo so per il termine che sono al movimento eccoli ne ho visto uno visto che allora adesso ci poteranno tutti sotto lì quindi sa dobbiamo proteggere te tu sei quello che va più danno per un momento non tassi qualcosa è che è troppo in faccia da bella xan non hanno più il super vai 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 cazzo ma è l'u bella di gvp si è piaciuto e diteci nei commenti se appunto volete una rivincita o contro chi se volete vedere la seria trolla ancora quali pg volete che usiamo che picchiamo eccetera eccetera un bacione e un abbraccio da luca e tutti l'ora tutto ciao ciao ehi tu si dico proprio te si nuovo da queste parti si allora mi presento io sono lisse e questo è il mio canale qui potete trovare video di minecraft ma non solo il canale è anche pieno di video di gameplay quindi che aspetti io non so verlo più da vicino persone o animali o bambini non sono stati sfruttati per realizzazione di questo video